Con il picchio testa rossa Donadoni, che è un grande arco, che uso nelle gare 3D come ricurvo tradizionale, lo vediamo, ovviamente prendo sotto coca, come tutti i ricurvi tradizionali, ancoraggio, non ho nessuna interazione, una presa perfetta, li lascio. Ok? Naturalmente io non metto dragona, vi invito anche voi a provare. Lo vediamo ancora una volta, nel ricordo tradizionale, veramente è un'ottima sensazione, la patelletta Zara, vi ricordo, ancoraggio, rilascio. Patelletta Zara.